Musica Smog superato il limite del PM10, riscaldamento ridotto e stop alla circolazione in ZTC per diesel Euro 2 e 3. Al Via Pitti immagine uomo, ottimismo tra le aziende del settore moda, si punta sull'ecosostenibilità. Rapine seriale a commercianti cinesi, Manetti 1 e Eduatori, si cerca il complice. A Vaiano è il mese di Lorenzo Bartolini, ecco gli eventi per il 170esimo anniversario della morte del celebre scultore. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. È stato superato il limite di PM10 e scattano così le prime ordinanze. A Prato riscaldamento ridotto di due ore al giorno e stop alla circolazione in ZTC per diesel Euro 2 e 3. Provvedimenti restrittivi anche a Montemurlo e Carmignano. Vediamo. Grazie a tutti. Per diesel Euro 2 e 3. A stabilirlo è l'ordinanza emessa dal Comune in base a quanto prevede la normativa regionale. Il funzionamento degli impianti di riscaldamento domestico dovrà essere limitato da 12 a 10 ore giornaliere con l'esclusione di ospedali, cliniche o case di cura, scuole materne e asilinido. L'utilizzo di biomassa per il riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non sono presenti sistemi alternativi di riscaldamento. Stop è la circolazione dei veicoli diesel Euro 2 e Euro 3 nella ZTC. Inoltre è obbligatorio spegnere i motori in caso di sosta prolungata. In caso di condizioni meteo favorevoli e di rientro nei valori, l'ordinanza sarà revocata. A Montemurlo un'apposita ordinanza in vigore fino al 14 gennaio vieta invece l'accensione di legna in caminetti aperti o estufe tradizionali a legna, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione, con l'esclusione delle aree non metanizzate. Un analogo provvedimento è stato adottato dal Comune di Carmignano. L'ordinanza impone inoltre di spegnere il motore di motocicli e automezzi in caso di file e soste prolungate. In questo caso l'ordinanza sarà valida a salvo proroghe fino a domenica 12 gennaio. Resta attivo il divieto dell'ordinanza che dispone fino al 31 marzo 2020, il divieto di abbruciamenti all'aperto di residui vegetali nelle zone che si trovano a quota inferiore di 200 metri sul livello del mare. Quello che serve non sono solo ordinanze deboli da emettere in piena emergenza, ma azioni mirate e costante di sensibilizzazione e incentiva all'uso dei mezzi di trasporto sostenibili, a dirlo la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Silvia La Vita all'indomani dell'entrata in vigore dell'ordinanza anti-smog. Per La Vita servono investimenti nel potenziamento delle linee bus, nella costruzione di nuove e numerose piste ciclabili. Occorre spendere i soldi dei cittadini dove c'è più bisogno, non nelle opere milionarie, aggiunge la consigliera Pentastellata, che accusa sindaco in maggioranza di immobilismo e di non aver avuto coraggio e idee per affrontare il problema. E cambiamo argomento. Si è presentata alla porta della casa affermando di essere una dipendente della misericordia venuta ad effettuare un controllo sanitario sulla pensione percepita. Con questo escamotage, la donna, ieri intorno alle 14.25, è riuscita ad entrare nell'abitazione di un anziano pratese. Il settantenne, una volta fatto entrare in casa alla donna, ha consentito che effettuassi i controlli finalizzati ad ottenere un possibile rimborso economico e le ha così mostrato del denaro contante percepito di recente con la pensione. La donna, con una scusa, è riuscita a distogliere l'attenzione dell'anziano facendola andare in un'altra stanza della casa per poi allontanarsi dall'abitazione facendo perdere le proprie tracce. A quel punto, il settantenne si è reso conto di essere stato vittima di un furto di circa 700 euro, ossia il denaro mostrato poco prima alla truffatrice, che secondo quanto è riferito dall'anziano alla polizia, è una donna italiana, dall'accento siciliano. E ci spostiamo a Firenze, dove ha preso il via ieri, alla Fortezza da Basso, la 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo. Clima, ottimismo tra le aziende del settore che puntano molto su una moda ecosostenibile. Per noi c'era Giulia Ghizzani. Si apre all'insegna della sostenibilità, la 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo, che porta alla Fortezza da Basso di Firenze e le collezioni moda per il prossimo autunno-inverno. Le nuove sfide della manifestazione, ritenuta la più importante del mondo, si giocano tutte tra artigianalità e innovazione, sapiente tradizione manifatturiera e ricerca. Siamo andati a curiosare tra gli espositori pratesi e dell'Interland. Per tutti si archivia un 2019 positivo, con tante sfide per il 2020. Stiamo concentrando molto sul mercato asiatico, spostandoci anche sulla zona Cina, oltre al mercato giapponese, che è il nostro mercato di riferimento, cercando proprio di avere dei partner presenti sul mercato 365 giorni l'anno, proprio per continuare a cercare di dare un servizio a 360 gradi a tutta la nostra clientela. L'iconico marchio Roy Rogers, con sede a Campi Visenzio, continua la sua scalata in termini di successo e nuove aperture. Oggi conta 900 punti vendita in Italia e un business che, partendo dal denim, spazia fino alla montagna e alla maglieria. Per questo Pitti la novità è il jeans con la sesta tasca in cui riporre lo smartphone. Molto bene la maglieria, che ormai è già consolidata da diverse stagioni ed è in crescita costantemente. Diciamolo, è tutta la parte total look, quindi stiamo crescendo oltre che nel denim, ma anche nella giubbotteria, nella giubbotteria in pelle, nella maglieria, nella t-shirteria, e quindi stiamo sviluppando una collezione sempre più total look. Per Malo, l'anno che si è chiuso è stato un anno di ripartenza. Il recupero e il consolidamento del brand rilevato nell'ottobre 2018 da nuovi soci sarà la vera missione di questo 2020. Al centro sempre il solito firouge, il cashmere, presente in tutti i prodotti dell'azienda. Qui c'è una storia notevole da un punto di vista della cultura e della capacità, dalle maestre magliaie, dove c'è un po' di difficoltà a rigenerare questo ruolo, perché l'età avanzano e le sostitute calano, e quindi noi stiamo cercando anche di creare delle scuole interne per sviluppare, partendo creando giovani, formando giovani, con queste logiche. Anche perché, ci tengo a dirlo, Malo è un'azienda italiana che produce in Italia. Ma anche il distretto con le nuove generazioni riesce a farsi notare nel mondo. Per Rifò la crescita negli ultimi anni è stata esponenziale, la filosofia del rigenerato piace e premia. Perché comunque la nostra città nasconde questo tesoro che va valorizzato, e soprattutto nelle nazioni più nordiche, ma anche oltre a ciano, viene molto elogiato, perché è un prodotto di qualità, un prodotto a chilometro zero, e ha anche un prezzo accessibile. Quale sarà la sfida di questo 2020? Triplicare il fatturato attuale. È stato convocato per domani alle 15 il Consiglio Comunale straordinario sulla motorizzazione civile. Nel corso dell'Assemblea cittadina saranno affrontate, con tutti i soggetti interessati, le criticità derivanti dalla chiusura dell'ufficio di motorizzazione a Prato e le difficoltà riscontrate dalla gestione delle pratiche in quello di Firenze, in sofferenza rispetto alla molli di lavoro che si trova ad affrontare. Nel corso degli ultimi anni il sindaco Matteo Biffoni ha incontrato più volte i rappresentanti delle autoscuole pratesi e ha scritto più volte sia alla motorizzazione di Roma sia al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti perché ponesse l'attenzione sulle problematiche dovute all'assenza degli uffici della motorizzazione civile in una città e alle difficoltà che questo comporta. Basti pensare che nel 2018 è stato possibile sostenere soltanto il 68% degli esami di guida richiesti. E ora la cronaca rapina in serie a commercianti cinesi Imanette, uno dei due autori. È stato arrestato uno dei due rapinatori che avevano preso di mira cittadini cinesi. In carcere, nel giorno dell'Epifania, è finito Anas Rikaoi, 27enne magrebino, domiciliato a Prato, ma di fatto senza fissa dimora. L'uomo, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, è stato catturato a Montemurlo dai militari della locale tenenza. Resta invece l'attitante e il complice. Le indagini, condotte dai carabinieri, sono partite da Prato, dove gli inquirenti sono al lavoro per capire quanti colpi siano attribuibili alla coppia che si era specializzata nel rapinare i commercianti cinesi. Al momento vengono contestate loro tre rapine messe a segno nell'Empolese tra ottobre 2018 e marzo 2019. Il primo episodio avvenne in centro ad Empoli quando un commerciante fu strattonato, bloccato a terra e derubato del portafogli contenente 500 euro in contanti. I due malviventi fuggirono a bordo di una Focus C-Max nera, la stessa auto utilizzata per le altre due rapine, entrambe commesse a Sovigliana nel comune di Vinci. Un anno fa nella piazza principale del paese un altro commerciante cinese fu immobilizzato con la forza dai due magrebini che slogarono il pulso al malcapitato per portargli via il portafogli contenente 700 euro. Simile modus operandi, sempre a Sovigliana, il 12 marzo scorso, quando un terzo commerciante cinese fu aggredito e neutralizzato con una presa al corpo finalizzata alla sottrazione del borsellino. Il bottino fu in quel caso di 900 euro. Le indagini proseguono adesso per rintracciare il complice e per capire quante volte i due magrebini abbiano colpito a Prato. Lo scorso anno, nella nostra provincia, le rapine sono cresciute di oltre il 60%. Gli scippi sulla pubblica via, in particolare, sono stati ben 157, che hanno avuto per vittima, nella maggior parte dei casi, proprio cittadini cinesi. Provincia e Comune di Prato hanno stipulato un accordo per la promozione del territorio. Nello specifico, l'intesa prevede la valorizzazione e l'apertura al pubblico del giardino di Palazzo Banci Bonamici, oggi sede della provincia. Qui si svolgerà l'edizione estiva della manifestazione enogastronomica IT Prato e da giugno a settembre saranno organizzati eventi, serate, spettacoli e visite guidate al giardino, sia da parte del gestore, che risulterà vincitore del bando del Comune, sia da parte della provincia. Non solo, nel locale Attigui, in tempo sede dell'ufficio turistico, sarà attivato un punto informativo aperto tutto l'anno e dedicato alla valorizzazione del territorio. E ci spassiamo adesso in Val di Bisenzio. Vaiano celebra infatti il 170esimo anniversario della morte del grande scultore Lorenzo Bartolini, nato a Savignano, con una serie di eventi che prenderanno il via sabato. Vediamo. La casa del borgo di Savignano, dove il 7 gennaio 1777 nacque lo scultore Lorenzo Bartolini, affacciata com'è sulla Valle del Bisenzio, conserva tutto il suo antico fascino. È una delle case della memoria d'Italia e proprio qui è stato presentato il programma delle celebrazioni per il mese di Lorenzo Bartolini, in occasione del 170esimo anniversario della morte dell'artista. Il progetto è promosso dal Comune di Vaiano con il Museo della Badia, Casa Agnolo Firenzuola e Casa Lorenzo Bartolini di Savignano, inserite nell'Associazione Nazionale Case della Memoria. A lui sono intitolate anche le scuole, il presso scolastico, e quando si va dai ragazzi e si domanda all'inizio soprattutto del percorso scolastico, che era Lorenzo Bartolini, si vede un po' di visi interrogativi. Non deve essere così. L'artista deve essere scoperto, un artista conosciuto a livello mondiale, e noi dobbiamo fare di tutto perché ciò accada. Ecco perché è importante sfruttare queste date, questo mese è importante, per cominciare un percorso che poi nel corso degli anni deve proseguire per portare avanti la conoscenza di questo nostro illustre concittadino. Si comincia sabato 11 alla Badia di Vaiano con la commemorazione alle 15 nel Museo della Badia di Vaiano e poi si prosegue il 20, quando andremo a rendere omaggio con il Sindaco di Vaiano alla tomba di Lorenzo Bartolini, alla Santissima Annunziata. Il giorno clou sarà il 26 gennaio, domenica 26 gennaio, quando con un bus messo a disposizione dal Comune di Vaiano si farà il giro dei luoghi bartoliniani, compresa ovviamente la Casa Natale qui a Savignano che fa parte dell'Associazione Nazionale Case della Memoria, anzi è un socio fondatore. Finiremo il primo febbraio con la visita del Museo di Palazzo Pretorio dove sono molte opere di Lorenzo Bartolini. L'iniziativa vede la collaborazione di Simona Vitarini dal 1982 proprietaria con il marito della Casa di Bartolini. L'abitazione è stata abitata per anni dal professore americano Alfred Di Marino e da sua moglie arrivati a Savignano proprio sulle tracce di Bartolini alla ricerca della casa dove l'artista era nato. Alla morte del professore la moglie è tornata negli Stati Uniti e la casa è stata acquistata dagli attuali proprietari che collaborano per coltivare la memoria di Lorenzo Bartolini. Ci piace e siamo anche orgogliosi perché insomma abbiamo questa particolarità di poter dire insomma che qui è nato Lorenzo Bartolini. E passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lamma. Salve e un caro saluto ben ritrovati con il consueto appuntamento meteo offerto dal Consorzio Lamma le immagini dal satellite ci mostrano nuovamente una toscana sgombra da nubi con la debolissima perturbazione transitata ieri che si sposta sul Mediterraneo meridionale andiamo a vedere quello che ci attende poi per il resto della giornata di oggi lo vedete poche davvero le variazioni si prevede una giornata del tutto soleggiata con venti deboli di grecala e temperature massime che si attesteranno tra i 10 e i 13 14 gradi in pianura quindi in aumento rispetto a ieri. Per quanto riguarda infine quello che ci attende per la giornata di domani inizialmente non ci saranno variazioni ancora un cielo prevalentemente sereno con al mattino temperature in nuovo calo in pianura nelle ballate dove si attende ancora l'occorrenza di estese gelate nel pomeriggio andiamo a vedere come i venti tendono a ruotare disporsi dai quadranti occidentali o sudoccidentali e questo favorirà un nuovo aumento delle nubi che tuttavia nel pomeriggio e nella sera di domani interesserà solo i rilievi settentrionali con questo direi che è tutto vi saluto vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti ed è tutto anche per noi il telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di tv prate per questa sera alle 20 e 30 grazie per averci seguito arrivederci a presto